Buongiorno a tutti, buon mercoledì mattina, ben ritrovati, primo appuntamento del giorno con Udinese TV con la nostra rassegna stampa. Come sempre insieme a voi leggiamo le notizie Fesca sui giornali, sulle prime pagine che vedete alle mie spalle, ma come sempre cominciamo anche con le immagini che arrivano dal nostro territorio, dalla nostra regione per capire che giornata sarà. Nella notte ci sono stati forti e temporali, fra poco vedremo le previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo, ma intanto diamo uno sguardo a com'è questa mattina sul nostro territorio. Qui siamo sul Lussari, ancora nuvole, ancora maltempo anche in montagna, andiamo anche a Sappada, anche qui non è una bella giornata, temperature più basse della media, parecchie nuvole, cielo ancora grigio dopo appunto i rovesci di questa notte. Sempre in montagna, questa volta nel Pordenonese, a Erto, anche qui non è una bella giornata, c'è maltempo, vedete dallo scatto appunto come al momento. Questa è la situazione su quasi tutta la nostra regione, qui siamo sul Cansiglio, l'alto piano del Cansiglio, qui nuvole anche a bassa quota. A Barcis iniziamo a scendere un pochino e qui anche ci sono nuvole nel cielo, spostiamoci anche sul litorale per vedere com'è la situazione sul mare. Maltempo anche a Trieste, anche se si intravedono i raggi del sole fra le nuvole. Qui siamo in porto a Trieste, con tutto l'arco del Golfo appunto ritratto in questo scatto e a grado. Situazione lievemente migliore, potrebbe migliorare in giornata ma non su tutte le zone. Vediamo allora quali sono le previsioni di quest'oggi insieme a Trebimetto. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimetto per la giornata di mercoledì, che sarà piuttosto variabile in Fruiri, Venezia e Giulia, ma principalmente sulla fascia alpina-pralpina dove per gran parte del giorno rischiamo degli acquazzoni dei piovaschi. Nelle aree di pianura invece la giornata ci regalerà anche ampie zone di Sereno. Solo alla fine del giorno, intendo dire proprio nella notte tra mercoledì e giovedì, arriveranno anche lì delle piogge. Entriamo più nel dettaglio tra Udine e Pordenoni, in effetti giornata a tratti nuvolose, ma ripeto principalmente sulla fascia alpina-pralpina, lì si sanno probabili temporali e acquazzoni. Più in giù invece non mancheranno delle belle aperture. Alla fine del giorno però anche lì arriveranno appunto le prime piogge. Situazione analoga tra Gorizia e Trieste, quindi gran parte della giornata anche con delle belle zone di Sereno, ma poi alla fine del giorno prepariamoci acquazzoni anche forti. Per sapere nel dettaglio comunque cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Queste dunque le previsioni per quest'oggi, non si intravede a breve un miglioramento netto delle condizioni del tempo, abbiamo visto anche temperature piuttosto basse per il periodo. Adesso diamo uno sguardo, diamo un'occhiata a quelle che sono le prime pagine di quest'oggi, con alcune notizie in primo piano su tutti i quotidiani, in primis il Green Pass che continua ad accendere gli animi, soprattutto per quel che riguarda il suo utilizzo, con ieri le parole anche del governatore Fedriga, nonché presidente della conferenza delle regioni, che ha detto deve essere utilizzato come una patente. Vediamo però intanto il Corriere della Sera. Domani la cabina di regia si va verso l'obbligo del certificato di vaccinazione per i professori e su aerei, treni e navi. Green Pass per scuola e viaggi, queste sono le indicazioni che arrivano dal governo. L'attacco hacker intanto nel Lazio, sono stati rubati anche i dati sui notai. Allerta per le asle e società quotate. Nel decreto che domani sarà ultimato dal governo, si va verso l'obbligo della certificazione, non solo per i trasporti ma anche per la scuola, studenti esclusi. Gli hacker intanto hanno rubato anche i dati dei notai del Lazio. Reti energetiche, sanità e società quotate, i possibili nuovi obiettivi degli hacker, già attaccato il sito del Consiglio dei notai, la richiesta di riscatto potrebbe arrivare anche a 5 milioni. E questa è la vigneta di Giannelli con Zingaretti che difende la sicurezza informatica della sua regione in questa maniera. Il valore di una lettera ha 10 anni di distanza. Il 5 agosto la Banca Centrale inviò al governo una lettera segreta, poi rivelata dal Corriere che sarebbe entrata nella storia economica e politica. Era stata firmata da Trichet, il presidente della BCE, e da Mario Draghi. La lettera era indirizzata a Silvio Berlusconi, una lettera che, recuperata a 10 anni di distanza, mostra tutta la sua importanza. Il pezzo è a firma di Mario Monti. Poi la riforma a Cartabia passa tra le tensioni sia allo statuto Movimento 5 Stelle, ma Conte è deluso dai dissidenti. Il Movimento 5 Stelle è stato fra i più critici nei confronti della riforma a Cartabia. La Camera ha approvato con 396 voti favorevoli, 57 contrari e 3 astenuti. Il DDL è delega di riforma del processo penale. Hanno votato contro i parlamentari di Fratelli d'Italia e alternativa c'è. Ma in aula però si è sfiorata la rissa. Non hanno partecipato al voto 16 esponenti del Movimento 5 Stelle che non erano giustificati. 26 di Forza Italia, 23 della Lega e 14 del PD. Il testo passa al Senato. Conte però deluso dai dissidenti del Movimento 5 Stelle che non hanno votato. L'ex premier ha ottenuto il via libera allo statuto, venerdì potrebbe essere incoronato. Nella foto di centropagina il volto di una donna che ieri è scomparsa per infortunio sul lavoro. Un'altra madre che è rimasta vittima durante la sua giornata di lavoro in un'azienda incastrata nel macchinario come Luana a Prato. Vi ricorderete la donna madre che scomparve qualche mese fa. Adesso si replica a Modena. Incidente sul lavoro aveva 40 anni e una bambina di 4. Poi gli esteri con in Bielorussia il mistero dell'attivista trovato impiccato. Stava facendo jogging. Ci sono molti sospetti riguardo alla sua morte. Poi un altro lutto, quello di Antonio Pennacchi. Lo scrittore fascio comunista aveva 71 anni. Invece in taglio più basso si ritorna alle Olimpiadi. Il primo oro misto festa per la vela per Tita e Banti nel Nacra 17. Quinto oro italiano a Tokyo. L'hanno conquistato Caterina Banti e Ruggero Tita nella vela. Eliminati gli azzurri di basket e di volley. E qui c'è stata una grande delusione. Oggi alle 11. Anche noi lo seguiremo. Ci sarà la finale di inseguimento su pista con il nostro buiese Jonathan Milan fra i quattro dell'inseguimento. Sposarci tutti insieme perché no? Parlano le compagne di Jacobs e Tamberi dopo il doppio trionfo all'Olimpiadi. Nicole Daza e Chiara Bontempi entrambe aspettano di sposare le loro medaglie d'oro e sono state intervistate dal Corriere della Sera. La Repubblica invece parla del Movimento 5 Stelle in apertura. Di Maio promette dai 5 Stelle nessuna minaccia al governo. Intervista al Ministro degli Esteri. No a Scossoni durante il semestre bianco. Si farebbe un danno alla ripresa del Paese. In questi giorni ho ricevuto molti attacchi. Ha detto Di Maio ma le divisioni all'interno del Movimento indeboliscono chi lo guida Covid verso il Green Pass per insegnanti e personale scolastico. Da questo punto di vista per la nostra regione non ci sono problemi perché come da ieri certificato anche dal Vice Governatore Riccardi quasi tutto il personale scolastico si è vaccinato a suo tempo dando una vera e propria lezione al Paese. Quindi Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista è già a posto. Assalto Hacker invece la regione Lazio si indaga per terrorismo. La forza intatta del Quirinale. Semestre bianco governo in rosso. Tutte le previsioni convergono su uno scenario turbolento per l'esecutivo Draghi e ancora la politica. Subito un piano per Montepaschi chiede il segretario del PD Enrico Letta. Il nuovo presidente iraniano Ebrahim Raisi riceve l'investitura della guida suprema come INI. La sfida di Raisi dirottata una petroliera. Il nuovo presidente iraniano si è insediato ieri. Poi nella pagina della cultura, nella spalla, tutti i canti che hanno fatto l'Italia lo ricorda Corrado Augas e poi addio a Pennacchi dall'agropontino al premio strega. In taglio più basso a New York, uomo accusato di molestie Biden chiede le sue dimissioni e poi azzurri con il vento in poppa, un oro nella vela, ecco un'altra medaglia per l'Italia alle Olimpiadi e poi ancora gli incidenti sul lavoro. Nulla cambia. Un'altra operaia è morta come Luana. Anche lei è mamma di un bambino di 4 anni. Il Sole 24 ore in apertura parla della crisi delle costruzioni dopo la mancanza di manodopera, scusate di materie prime, mancano anche la manodopera. Mancano 265 mila addetti, dice Lance. Le imprese non trovano la manodopera, rischio PNR e superbonus. Introvabili il 52% di addetti alle finiture e il 60% di giovani operai specializzati. Intanto sono buone le previsioni per il PIL italiano che crescerà di quasi 6% nel 2021, nel 2022 andrà oltre il pre-Covid. Crescita del PIL nel 2022, vedete, 4,2% per l'ufficio parlamentare del bilancio. Non solo lo sport, l'Italia corre e vince anche in economia. Il bilancio prima dell'operazione Unicredit, questa è la sede dei Monte dei Paschi di Siena, il conto stellare della crisi di Monte Paschi, 23 miliardi e mezzo di euro, risorse bruciate per Monte dei Paschi, tra aumenti di capitale e salvataggi politici. Poi ammortizzatori sociali nella riforma incentivi a chi assume dalla Cassa Integrazione la proposta di Orlando alle parti sociali, tutele anche per piccole e medie imprese e micro imprese. Si parla di tutela del lavoro in questo momento difficile. Le proposte del Governo sono queste, ammortizzatori sociali e poi riforma degli incentivi proprio per chi assume dalla Cassa Integrazione. Poi Torino in corsa per la fabbrica di microchip del colosso Intel, termini Imerese, storico stabilimento, progetto in stallo, Consorzio Sud valuta di lasciare la riconversione dell'impianto. Poi assicurazioni generali raddoppi all'utile netto, ma resta la tensione sui vertici. Zurich invece tratta in esclusiva per la rete dei promotori Deutsche Bank. 1.100 i promotori di Deutsche Bank, un istituto che appunto ha mille consulenti, una massa in gestione pari a 17 miliardi. Per l'automotive Stellantis apre a investitori nuovi partner per la Gigafactory di Termoli. Vediamo anche il panorama, nella spalla arriva l'Agenzia Escalation del furto di dati, serve una agenzia per la cybersicurezza, l'allarme della polizia postale. A fine anno si rischia di arrivare a circa il 50% in più di attacchi informatici rispetto al 2020. E poi per le amministrative si va al voto il 3 e 4 ottobre per eleggere 1.162 sindaci. Ne parleremo anche fra poco perché si voterà anche nella nostra regione. Questa era la prima del sole. Vediamo la stampa. Vaccini, terza dose ai più fragili. Via al tampone low cost per gli under 18. costerà in farmacia solo 6-7 euro. I fondi del recovery dovrebbero arrivare lunedì. Intervista con Brusa Ferro sulla stampa. Il Green Pass assalto della Lega al decreto per l'utilizzo del Green Pass per bar e ristoranti. Depositati 900 emendamenti all'obbligo vaccinale per i docenti. Sembra preferire il senso civico del proteggere se stessi e chi ci è vicino. Silvio Brusa Ferro annuncia la terza dose per gli immunodepressi. Il semestre bianco è il bene di tutti. Poi ancora in centro pagina indaga l'antiterrorismo. sull'attacco hacker alla regione Lazio. Il fenomeno cresce. I buchi nella rete favoriti dallo smart working. L'Egizio bloccato dai veti della politica. La polemica riguarda il Museo di Torino che attende il CDA dal 15 di gennaio. In taglio basso l'addio a Pennacchi. L'ultimo fascio comunista. Le sapeva riraccontare la nostra storia senza stereotipi. Si legge. Poi ancora il caso di Cronaca. Il dramma di Laila. Un'altra Luana uccisa dal lavoro. E poi la lettera di Matteo Renzi. La mia verità sul reddito di inclusione. In alto invece si torna sulle Olimpiadi di Tokyo. Ita, Tita Banti, il quinto oro azzurro arriva dal mare. E poi invece il flop. A casa le squadre di basket e volley maschile. Oggi invece in campo e in piscina. Il Settebello e le pallavoliste cercheranno il riscatto per le squadre azzurre. Vediamo anche gli altri quotidiani. Velocemente siamo sul giornale. Bomba sull'estate. 15 milioni senza pass. Vacanze in bilico. Contagi in crescita sulle isole. Sardegna gialla. Sicilia quasi. Per chi non potrà viaggiare. Rischio salasso per i tamponi. Dal Quirinale al proporzionale. Il partito per Draghi è scalpita. Poi invece la pace fra Meloni e Berlusconi. Pace fatta. Noi alleati e mai avversari. Si legge in centropagina. Il futuro del centrodestra. E poi invece addio a Pennacchi. L'unico vero fascio comunista. Scrittore di culto. Poi ancora in centropagina. Loro misto della vela. Basket e volley invece una delusione. L'Alfa Romeo prepara la scossa dal 2027. Solo modelli elettrici. Così cambia il mercato dell'auto. Su Libero invece Silvio e Giorgia si riparte. Pranzo a Villa Certosa. Il Cavaliere e la Meloni stristringono la mano. Basta Liti. La rassicurazione. Il centrodestra sopravviverà a Draghi. Zan va in vacanza. PD e Movimento 5 Stelle rinviano la legge sull'omofobia a ottobre. E poi intervistato da chi mentre firma per il referendum Paolo Berlusconi ha vinto il tumore. Poi a centropagina si torna a parlare dell'attacco hacker. Regaliamo noi i dati. Tutto compromesso. La rete italiana è cinese. che si legge su Libero. Sui siti basta cliccare accetto e autorizziamo Amazon o Facebook a fare soldi. Questa è la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere anche la verità. Tra 48 ore meno libertà e più ipocrisia. Venerdì entrerà in vigore il Green Pass, obbligatorio al ristorante, non nelle mense, indispensabile al museo, ma considerato inutile nei tram affollati e insufficiente per accedere a Palazzo Chigi, dove chiedono anche il tampone. Il lascia passare è un'autentica presa per i fondelli. Dannosa, dice Maurizio Belpietro. Il caso svedese. Pochissime restrizioni, decessi e ricoveri in proporzione inferiori ai nostri. Le mosse nascoste del fratello di Fini per salire al colle. Poi invece in centro pagina basta un'email per bucare il fortino di Zingaretti, la rete informatica del Lazio attaccata attraverso il PC di un dipendente al lavoro da casa. Rubati pure i dati di parlamentari e membri del governo, ci spingono verso la digitalizzazione, però le protezioni sono fragili. Questa è la prima della verità. Vediamo anche il manifesto che in centro pagina dice Il lavoro è morto. Un'altra giornata tragica sul lavoro. Laila El Harim, operaia precaria di 40 anni, ucciso da un macchinario in una fabbrica di confezioni vicino Modena due mesi fa nel Pratese. La morte della ventenne Luana Dorazio. Intanto cresce la protesta su sicurezza e licenziamenti. In centro pagina, tacco cyber, antiterrorismo in campo. E invece in taglio più basso, primo sì alla riforma della giustizia, scontro sugli eco-reati. Poi gli iscritti del Movimento 5 Stelle approvano lo statuto di Conte. E in Bielorussia si ritorna sul caso dell'attivista, che abbiamo visto anche sul Corriere della Sera, si indaga per omicidio. Passiamo al gazzettino. Novax è scontro nella Lega. Tensione nel partito per le posizioni dei deputati Coin e Bazzaro, contrari ai vaccini e al Green Pass. La lista, Zaia dice, ostacolano il lavoro di regione e sindaci. Intervenga il commissario, Stefani. Questa è la situazione tra l'Ala Novax e i sostenitori del vaccino all'interno della Lega. Il capogruppo in consiglio regionale del Veneto di Zaia, presidente, prende posizione. Stanno intralciando il lavoro dei nostri amministratori, a partire dal presidente Luca Zaia. Il commissario regionale della Lega, Alberto Stefani, prenda subito in mano la situazione. Intanto in Veneto è caccia ai tamponi. La regione opziona fino a 8 milioni di test. Non è detto che l'epidemia finisca presto. Allora il Veneto mette mano al portafoglio e investe quasi 30 milioni di euro per acquistare i test sul mercato con un'opzione fino a 200 milioni, pari a 8 milioni di test. A Pordenone dura sanzione. Un mese chiuso. Un locale, un ristorante di Roveredo in piano. Dopo i controlli del 30 luglio, il DJ insulta la polizia. locale chiuso un mese. Una dura sanzione perché la questura dice si era creato un clima ostile agli agenti che stavano facendo il controllo. Dopo aver trovato 150 persone che stavano mangiando, alcuni ballavano in pista senza rispettare il distanziamento e le mascherine, dopo questa chiusura di 5 giorni è arrivata anche la chiusura per un mese. non solo per gli insulti del DJ che aveva invitato gli agenti a vergognarsi, ma anche perché il locale non aveva le autorizzazioni per far ballare i clienti. E allora ascoltiamo le notizie di cronaca relative alla giornata di ieri, compresa questa relativa al locale di Roveredo in piano, in questo servizio. Un operaio folgorato e uno con le gambe schiacciate in un macchinario. E' questo il bilancio di un doppio infortunio sul lavoro questa mattina a Sacile. Prima un uomo è stato colpito da una scarica elettrica nei pressi della stazione in via Trento, mentre lavorava ad una cabina elettrica. Poco dopo un altro operaio che invece era nella fabbrica della Carton, uno scatolificio di via Europa, è rimasto incastrato con le gambe in un macchinario. Entrambi hanno raggiunto in elicottero l'ospedale di Udine, coscienti. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell'azienda sanitaria e i carabinieri di Sacile insieme ai vigili del fuoco. La polizia lo ha fermato questa mattina presto al casello di Udine Sud. L'autista ucraino di un Peugeot Boxer con targa slovacca aveva in effetti qualcosa da nascondere. Nel mezzo erano infatti stipati 19 cittadini stranieri, tutti maggiorenni e provenienti dal Bangladesh. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo di migranti proveniente dalla Bosnia era stato caricato sul furgone nei pressi di Ljubljana. Per il viaggio hanno pagato circa 2.000 euro a testa. L'uomo è stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre gli stranieri sottoposti a triaggio sanitario. L'ite fra stranieri ieri pomeriggio in zona autostazione e gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno identificato i due coinvolti, i due cittadini pakistani, fermando l'aggressore che aveva colpito l'avversario con una bottiglia di vetro è stato arrestato per lesioni. Atti osceni su un treno Venezia-Udine a essere molestate da un 49enne residente nella zona di Pordenone due donne che hanno subito allertato il capotreno. La polfer di Gemone è intervenuta immediatamente fermando l'uomo direttamente sul convoglio e affidandolo poi ai colleghi una volta arrivati a Pordenone. È stato indagato per atti osceni in luogo pubblico. In 150 stavano cenando e alcuni ballavano senza distanziamento e protezioni. Una decina di ragazze si aggiravano fra i tavoli per fare intrattenimento. Il locale è carnoso Garden & Grill di Roveredo in piano già chiuso per 5 giorni dopo il controllo del 30 luglio resterà chiuso anche per un altro mese. Secondo gli accertamenti infatti era sprovvisto delle autorizzazioni per svolgere l'attività da ballo e come documentato dalle riprese degli agenti il DJ aveva creato un clima di ostilità dileggiando e schernendo gli agenti dal microfono. Per questa ragione è stato indagato in stato di libertà per aver offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Ecco quello che è successo quindi a Roveredo in piano con la polizia del questore di Pordenone che ha deciso di chiudere il locale per un altro mese. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali cominciamo con il piccolo edizione di Trieste si voterà il 3 e il 4 di ottobre la regione fissa la data del primo turno evitata la sovrapposizione con la Barcolana quindi al via le amministrative anche nella nostra regione si scelgono i sindaci in diversi comuni fra cui appunto il capoluogo regionale. In centro pagina l'oro misto nella supervela di Tita e Banti questa è la foto che ha scelto il piccolo per celebrare la nuova medaglia ottenuta a Tokyo 2020 degli azzurri. Poi invece si torna alla pagina relativa al Covid-19 i presidi lanciano l'appello agli studenti vaccinatevi sono partite le prime lettere i dati di ieri 94 positivi i metà sono giovani non immunizzati 85 ricoveri su 100 e poi tamponi in classe in mille istituti protezione civile coinvolta nell'operazione è questa l'idea che è stata spiegata ieri al tavolo regionale con l'ufficio scolastico regionale per far ripartire in sicurezza le scuole l'assessore Riccardi ha spiegato che l'intenzione è proprio quella di effettuare mille test al giorno in alcune scuole sentinella per monitorare l'andamento dell'epidemia nelle nostre scuole al tavolo si è parlato anche di trasporto pubblico verrà potenziata con l'investimento della regione l'aereazione sui mezzi che trasporteranno gli studenti l'aumento delle corriere del trasporto pubblico locale è in previsione mentre invece per il numero dei bus per esempio per il caso di Trieste non si potranno fare particolari modifiche allora sentiamo i dati relativi alla giornata di ieri e anche queste informazioni relative ai tamponi previsti dalla regione nelle scuole sentinella 94 nuovi contagi oggi in regione evidenziati da 5.502 tamponi effettuati un dato che come negli ultimi tempi viene trainato dai più giovani circa la metà infatti dei nuovi positivi a meno di 29 anni bassi i livelli di ospedalizzazione 4 persone sono ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 22 nonostante vaccinazioni e lettere di sospensione per operatori Novax ci sono ancora casi nelle strutture sanitarie anche se molto limitati oggi si registra un infermiere positivo nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale mentre due sono i positivi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani e per l'avvio dell'anno scolastico oltre agli investimenti per l'aerazione dei mezzi di trasporto pubblici confermati oggi dall'assessore regionale Pizzimenti arriva anche la proposta dei test salivari al tavolo sicurezza sulla ripartenza della scuola convocato dall'ufficio scolastico regionale su richiesta dei sindacati l'assessore alla sanità Riccardi ha chiarito che la regione si sta attivando per mettere in campo mille test salivari al giorno in alcune scuole sentinella della regione il settore scolastico ha riferito Riccardi ha dato un esempio al paese se si pensa che ben 26 mila persone del comparto pari alla quasi totalità si è vaccinata secondo Riccardi molto resta da fare invece per quanto riguarda le fasce di età scolare in quanto nella popolazione regionale di età compresa tra i 12 e i 19 anni l'adesione alla campagna vaccinale è finora pari al 47,2% di 5-6 punti inferiori rispetto alla media nazionale Siamo ora sulle pagine del messaggero in apertura le parole di Fedriga il Green Pass come la patente di guida il presidente dice va esibito su richiesta ma gli esercenti non possono diventare controllori e quindi ha spiegato il Green Pass dovrebbe essere richiesto solamente da pubblici ufficiali e non dai titolari degli esercenti dei locali oppure dei negozi questa la proposta poi invece in taglio più alto l'incrocio è pericoloso a Udine 600 mila euro per una rotonda e poi il 3 e il 4 ottobre seggi aperti per il rinnovo di 38 comuni poi ci torniamo oro o argento medaglia sicura per il friulano Milan Jonathan oggi sarà in gara e sarà sicuramente a medaglia e c'è grande fermento a buia per questa gara questa mattina la seguiremo anche noi a partire dalle ore 11 appunto la gara poi noi saremo in diretta come sempre col TG alle 10 e alle 12 per raccontarvi le emozioni che arrivano dal paese natale di Jonathan Milan che quest'oggi correrà con i suoi compagni sfidando i fortissimi danesi nella spalla un 65enne di Maiano muore per un malore in mare a grado soccorso a Tarvisi uno scout di 12 anni che era precipitato per 50 metri e poi la denuncia per oltraggio del DJ agli agenti lo abbiamo ascoltato a Roberedo in piano aveva dileggiato gli agenti che stavano facendo un controllo poi la storia campagna ed Italia il sogno di gloria di Napoleone cent'anni fa nasceva il padre del teatro di Udine invece andiamo a scoprire quali sono i comuni che verranno coinvolti dai seggi per il rinnovo delle giunte si parla appunto del 3 e 4 di ottobre le amministrative nella nostra regione vedranno anche il rinnovo del sindaco il nuovo sindaco di Trieste la corsa alle candidature è partita da tempo per molti comuni è già ben definita ora con l'ufficialità dell'appuntamento elettorale si potranno fissare anche le tempistiche per il deposito delle liste le strategie delle campagne per la caccia al voto domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi saranno 38 i municipi e i rispettivi consigli comunali che verranno rinnovati in Friuli Venezia Giulia di questi solamente 4 Cordenone Spordenone San Vito Altagliamento e Trieste potrebbero finire al ballottaggio perché con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nel capologo regionale Roberto Di Piazza il sindaco uscente di centrodestra ha governato la città in due tempi complessivamente per 15 anni e oggi è ancora il grande favorito anche grazie a una piccola rinascita del turismo e del porto i suoi avversari di centrosinistra e Movimento 5 Stelle invece si presentano divisi da un lato Francesco Russo del Partito Democratico dall'altro Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e poi ancora Riccardo La Terza ricercatore universitario con la civica di sinistra adesso Trieste ha annunciato di volersi candidare pure Franco Bandelli con la civica futura così come l'udinese Ugo Rossi con il Movimento 3V apertamente No Mask e No Vax i Verdi e sinistra candidano invece Tiziana Cimolino per le forze minori però occorrerà superare lo scoglio del deposito delle firme che per tutti i comuni dovrà avvenire entro il 4 settembre prossimo più tranquilla è la situazione a Pordenone dove l'uscente Alessandro Ciriani avrà di fronte Gianni Zanolin per il centrosinistra più Movimento 5 Stelle e Anna Ciriani con una civica sfide attese pure alla Tisana Palmanova San Giorgio di Nogaro a Grado a Muggia si farà fatica a fare le liste invece nelle piccolissime Donia e Drenchia meno di 200 abitanti al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid le operazioni di votazione ha fatto sapere la regione si svolgeranno nel primo e nel secondo turno nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15 Ancora il ritorno a scuola sulle pagine del messaggero l'appello dei presidi in vista del rientro in aula ragazzi vaccinate via Trieste Udine partite le prime lettere alle famiglie per incoraggiare l'adesione l'associazione nazionale presidi con Tassan Viol la responsabile è la via giusta per vincere il Covid si devono attivare tutti gli istituti via intanto ai mille test salivari nelle scuole sentinella però ancora senza titolari quasi 1600 cattedre questo è un po' il punto di quello che c'è stato ieri con il tavolo per la scuola convocato dai sindacati in ufficio scolastico regionale a ottobre 38 comuni al voto in regione l'abbiamo sentito minorenni stranieri oltre 6 milioni per coprire i costi dell'accoglienza questi sono i costi del programma immigrazione con la discussione che si è tenuta anche in consiglio regionale qui ancora torniamo con l'economia ai numeri di generali che abbiamo visto in prima pagina anche sulle 24 ore utile record risultati in linea con il target ed è già iniziato il toto ad toto amministratore delegato i nuovi nomi poi i numeri di Stellantis ma andiamo a vedere la prima pagina relativa alla città di Udine trasporto scolastico mancano 40 bus per gli studenti si ricorre ai privati in affitto i mezzi necessari costranno un milione al mese l'assessore Pizzimenti dice è essenziale ricominciare scuola sicuri l'azienda arriva a Udine e dice siamo preparati a qualunque situazione poi ancora si parla di scuole con il nuovo assessore che dovrebbe arrivare proprio per l'inizio dell'anno scolastico così ha spiegato il sindaco Fontanini ieri in consiglio comunale intanto CAMST pronta a gestire le mense dopo appunto la sospensione della ditta campana il sindaco in commissione da l'identikit di chi sostituirà la dimissionaria battaglia nominerò una persona vicina alla scuola e con la ditta siamo in dirittura d'arrivo e poi ancora polemiche su risorse e progetti botta e risposta in commissione ieri tra Federico Pirone e Giovanni Govetto le dimissioni dell'assessore battaglia le dimostrazioni di disinteresse della maggioranza per la scuola hanno procurato risultati disastrosi ha detto Pirone accuse che Govetto ha respinto tranne periodi limitati le scuole hanno sempre fatto lezioni in presenza lo stesso vale per il dopo scuola e il dialogo c'è sempre stato con i genitori ha detto Govetto poi la la giudiziaria con il furto di segreti industriali ai danni di un'azienda di Udine in tre finiscono in tribunale poi ancora troppi incidenti via Lumignacco arriva un'altra rotonda l'incrocio tra le vie Selvuzzi e Lumignacco resta uno dei più pericolosi l'esecutivo investirà 600 mila euro mezzo milione per asfaltare quattro strade il comune intanto ristruttura sei appartamenti per chi è in difficoltà sempre la cronaca con il casello al casello di Udine Sud il passere è bloccato aveva 19 persone a bordo poi il lite abbottigliate arrestato un 26enne e gli atti osceni sul treno davanti a due ragazze abbiamo ascoltato queste notizie nel nostro servizio di cronaca scout 12enne precipita per 50 metri avevamo imboccato da oltre mezz'ora un sentiero molto pendente in Val Romana quando è scivolato è successo nel Tarvisiano è intervenuto il soccorso alpino spostiamoci adesso sulle pagine del Gazzettino sulla pagina dedicata al Friuli anche qui in prima piano lo scout 12enne che è caduto per 50 metri ed è grave e poi ancora le questioni relative alla nostra città via libera la sistemazione delle palamostre c'è il progetto e per il ritorno in aula le famiglie hanno paura il movimento priorità alla scuola dice felice di tornare al 100% ma quanto durerà il movimento studentesco teme l'effetto boomerang 6 nuovi alloggi per persone in difficoltà e poi confusione sul Green Pass hotel preoccupati in centro pagina il doppio test annunciato da parte dell'Udinese Empoli e Chiarlins Muzzane aspettando però tre rinforzi con la società attiva sul mercato e quest'oggi appunto apriamo la pagina sportiva ci sarà una gara che vedrà un nostro corregionale Jonathan Milan che correrà per o loro o l'argento giocheranno correranno contro la Danimarca il quartetto dell'inseguimento è trainato da Ganna che ieri ha appunto sospinto i suoi compagni fino al record del mondo e oggi si giocheranno la finale come detto Buia in fermento per il suo compaesano Jonathan Milan comune a grande tradizione ciclistica nel team azzurro l'Udinese di Buia Jonathan Milan alle 11 l'ultimo atto contro i danesi e Paltrinieri ci proverà nella 10 km ha detto Darò è tutto male invece le squadre di basket e pallavolo in particolare la pallavolo a Deluso era vice campione olimpica la squadra vice campionessa olimpica perde al tie break con l'argentina e resta fuori dalle semifinali non succedeva dal 92 pronto Fefede Giorgi al posto di Blengini e anche il basket saluta Tokyo dopo però aver ceduto solamente all'ultimo a una fortissima Francia fuori a testa altissima i ragazzi del basket fra cui anche in campo sul parquet per diversi minuti anche il nostro corregionale Tonut rabbia Jacobs per le illazioni sul doping adesso c'è la staffetta il presidente del CONI Malagò sulle illazioni sulle voci che arrivano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti che si sono visti scippare la medaglia d'oro non sanno accettare le sconfitte allora andiamo a vedere proprio le prime di quest'oggi Lukaku aria di addio qui siamo sul Corriere dello Sport che festeggia anche l'oro della vela un altro trionfo azzurro un mare d'oro si legge andiamo a vedere anche tutto sport la prima pagina di quest'oggi l'una d'oro Tokyo 2020 Caterina Banti e Ruggero Tita trionfano nella spettacolare classe NACRA 17 una vittoria che mancava alla vela da Sydney 2000 e poi il quartetto dei record in finale per l'oro con il primato mondiale oggi alle 11 contro la Danimarca poi il mercato del calcio il giorno di Caio visite e firma per la Juve il Chelsea non molla a questo punto il belga ci pensa brivido Lukaku potrebbe partire l'Inter prova a fare i conti dopo aver rifiutato tutte le avance qui siamo proprio sulla gazzetta dello Sport Lukaku verso l'addio l'Inter vuole 130 milioni il Chelsea oltre il muro dei 100 Zang chiede di più e Bramovic va al rilancio Zapata sarebbe la prima scelta per sostituire Romelu e qui Italia gonfie vele Tita e Banti primo titolo misto nella nostra storia nella specialità e poi Ganna locomotiva del treno dei sogni quartetto già argento col record del mondo alle 11.06 in seguimento finale appunto con i danesi trionfo e primato nei 4H World Show a ostacoli 45 e 94 per il norvegese che ha già sorpreso negli ultimi anni e poi basket e volley K.O. che fanno male un'analisi sull'uscita delle due squadre da cui ci si aspettava sicuramente di più andiamo a vedere sulle pagine delle Gazzettino anche le notizie relative all'Udinese test con Chiarlins ed Empoli per prepararsi alla Juve amichevoli venerdì e sabato in attesa del debutto mentre in Coppa il primo avversario sarà Lascoli Deulofeu non recupera Noitink ancora fermo sul mercato si lavora per tre nuovi innesti di peso intanto pressing dei club per avere più tifosi Campoccia il vicepresidente dell'Udinese che ha partecipato alla riunione di Lega superare la vecchia logica sul distanziamento poi invece il nuovo acquisto del Pordenone Hamza e le Kawakibi classe 95 arriva dalla Bologna il giovane laterale reduce da una bella stagione a Bolzano sono pronto a dare il meglio oggi testa Padova contro i biancoscudati dell'ex Pavanel l'esclusione del Chievo cancella il derby di Coppa Italia questo è il gazzettino andiamo a vedere anche le notizie dell'Udinese sul messaggero Veneto l'Udinese di oggi lotta per la salvezza sulla carta sono quattro le squadre più deboli a un mese dalla chiusura del mercato facciamo le carte al campionato solo spezze le neoprobosse dietro ai bianconeri si legge in questo articolo a firma di Massimo Meroi poi ancora il mercato con il Tottenham che si è preso Romero la Juve pensa a Baccaioco e a Pjanic doppia a Michevole venerdì il Chierlins e poi sabato c'è Lempoli come anticipato appunto l'avversario sarà Lempoli l'Udinese giocherà sabato alle 18 la gara con i neopromossi toscani si disputerà ad Abano Terme e poi invece prima amichevole con il Chierlins Muzzane dell'ex tecnico della primavera Max Moras poi rispinto il ricorso del Chievo viene ripescato il Cosenza salta quindi il derby di Coppa Italia per il Pordenone che ieri ha messo sotto contratto Hamza e il Kawakibi classe 98 da ieri col calciatore nero-verde per lui un titolare scusate un contratto triennale poi per il basket riesplode il caso dei diritti tv l'Apu porta la Lega in tribunale clamorosa presa di posizione del presidente Pedone in gioco le dirette dei match il club dice non siamo contrari allo streaming ma vogliamo raggiungere più tifosi e poi raduno fissato a 16 di agosto ma alcuni giocatori arriveranno già nel weekend per i motori cialla il trivio Drenchia e Mersino il rally Alpi orientali torna a casa per il beach soccer nel weekend finale scudetto Lignano per le magiche 8 premio speciale a Del Mestre Manzanese scatta oggi la nuova stagione Scandilori e Baragotto ultimi colpi di mercato testa oggi a Mortegliano per il Chiarlins Muzzane che poi giocherà contro l'Udinese puntiamo al salto di categoria dice il presidente Zanutta Villa in trasferta a Resia stiamo in Coppa Carnia derby Folgore Lauco e la Molgese va a Cavazzo queste erano le ultime notizie sportive sul Gazzettino a questo punto ritorniamo sulle pagine della Gazzetta con appunto la celebrazione dell'oro di vela tita e banti sì perché l'Italia è un popolo di navigatori la coppia trionfa nella classe Anacra 17 69 anni dopo Straulino a Helsinki poco sonno e tanto impegno ne valeva la pena dicono i medagliati e oggi alle 11.06 dopo il record del mondo di ieri il quartetto punta all'oro vi divertiremo ancora una giornata storica l'inseguimento a squadra e torna sul tetto del mondo oggi la finale sarà la 39esima medaglia della pista l'ultimo oro è stato a Roma nel 1960 Ganna traina i suoi ma ovviamente occhi puntati sul buiese Jonathan Milan e noi vi racconteremo tutto nel corso delle edizioni delle 10 e delle 12 del nostro telegiornale con le dirette proprio da buia dove ci sarà la nostra Monica Nardini alle 14.30 poi vi ricordo case da sogno alle 17.30 tutte le info sull'Udinese che da ieri si è ricominciata ad allenare con pomeriggio calcio questa sera invece alle 21 in prima serata i nostri speciali giustizia riforma è fatta si parla della riforma cartabia in conduzione Francesco Pezzella e tra i suoi ospiti il presidente dell'ordine degli avvocati di Udine Massimo Zanetti l'ex magistrato Carlo Nordio il presidente della corte d'appello di Bologna Oliviero Drigani e poi il giudice di Cassazione Claudio Cerroni appuntamento quindi alle ore 21 io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento con il nostro telegiornale fra poco alle ore 10 a più tardi a più tardi